Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, in Viale Magna Grecia, più o meno all'altezza di Via Liguria. Proprio in questa zona, da dove stiamo riprendendo, verrà costruita l'ennesima rotatoria. Ora, posso capire certamente che le rotatorie rappresentano una svolta per quanto riguarda il traffico, però bisogna vedere anche dove vengono allocate, dove vengono collocate. Certamente collocare l'ennesima rotatoria in Viale Magna Grecia a una distanza tutto sommato breve l'una dall'altra crea soprattutto dei problemi ai commercianti perché è ovvio che in questo modo gli utenti, i cittadini, non avranno difficoltà a fermarsi e quindi chiaramente non fermandosi o fermandosi poco i cittadini è chiaro che i negozi riceveranno per così dire pochi clienti. Ci sarà un calo per quanto riguarda i clienti. Parliamo di questa zona di Viale Magna Grecia. Alle mie spalle vedete ci sono i portici, portici dove ci sono attività commerciali storiche e immaginiamo il disagio che si creerà a Costoro. Allora io dico l'amministrazione comunale prima di prendere determinate decisioni dovrebbe studiare meglio, dovrebbe riflettere sulla opportunità di certe scelte. L'amministrazione comunale dovrebbe sentirsi con gli operatori che poi sono i primi veri attori della vita economica della città. Poi ci lamentiamo come mai si perdono i posti di lavoro, come mai i negozi rimangono vuoti. Ebbè certe scelte hanno ovviamente naturalmente la loro incidenza. Per cui certe decisioni calate dall'alto e che i commercianti devono subire to cure certamente non fanno bene al territorio e determinano purtroppo un calo dell'occupazione.